E' l'ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche della sicurezza di Achille Variati e dell'amministrazione di centro-sinistra. Non usa mezzi termini Francesco Rucco, tutta colpa della non politica in tema di sicurezza di questi anni, che oggi permette addirittura che valori e nulla facenti possano reagire contro le forze dell'ordine e consenta loro di non avere paura. Non fanno paura perché non si sentono controllati, non si sentono sottoposti a pressioni da parte delle forze dell'ordine, e soprattutto quelle che dovrebbero controllare il territorio. Noi chiediamo uno sforzo in più al questore e al comandante dei carabinieri. I tempi però sono maturi per il cambiamento e la ricetta Rucco non prevede solo l'esercito contro chi delinque per dare più sicurezza ai cittadini, ma è più articolata. La prossima amministrazione dovrà essere un'amministrazione più severa e che dovrà lavorare molto sul territorio, dovrà puntare sul presidio permanente di polizia locale e su misure e controlli tramite le pattuglie antidegrado, quindi assunzione di vigili, strumentazioni e controlli del territorio.